Carissimi amici del canale YouTube, dentro la notizia, Biden non si è ancora insediato alla presidenza degli Stati Uniti che già si vedono le prime avvisaglie di una durissima e spietata dittatura. Non solo i principali social hanno bannato ingiustificatamente Trump e coloro a lui vicini, ma cose terribili che non sentirete in tv stanno accadendo ed è per quello che le persone più accorte propongono le soluzioni di cui parleremo nel corso del video. Ricordando che cerchiamo di avere un approccio positivo ai problemi che le diaboliche elite ci stanno causando, avere un atteggiamento negativo ci nuoce molto più di quanto potremmo immaginare e la cupola che domina il mondo lo sa, per quello che paga dei troll che con i loro commenti scettici e negativi tentano di scoraggiarci. Non fate il loro gioco. Detto questo, Deutsche Bank ha deciso di non fare più affari con Trump e Signature Bank chiude i suoi conti personali, chiedendone le dimissioni. Cose dell'altro mondo, altro che regime. Deutsche Bank e Signature Bank, due banche che hanno concesso prestiti a Donald Trump, non lo vogliono più come cliente, motivando falsamente la decisione con la manifestazione del 6 gennaio culminata con l'invasione del Campidogno. L'istituto di credito tedesco è noto per le sue disavventure finanziarie, per l'abnorme entità dei derivati tossici in suo possesso, per le molteplici inchieste legali di cui deve rispondere, oltre che ora per essere lo strumento con cui la cabala intende piegare Trump, che deve alla banca, con sede a Francoforte, più di 300 milioni di dollari. Signature Bank, l'istituto di credito di New York che da tempo si occupa della sua famiglia, sta chiudendo due conti personali in cui Trump deteneva circa 5,3 milioni di dollari. Il lunedì un portavoce dell'azienda ha affermato Il portavoce ha aggiunto che la banca non farà affari in futuro con i membri del Congresso che hanno votato contro la certificazione degli elettori nei sei Stati contestati. Cose da matti! Anzi, da regime! Così si vuole punire i rappresentanti del popolo, perché dissentono dal pensiero unico dell'elite che tramano i danni dei cittadini. Ma c'è di peggio e, come si dice, l'America è avanti rispetto a noi, nel bene e nel male. Notate quest'altra diabolica trama dell'elite del Deep State. Il progetto Veritas ha pubblicato martedì un video in cui Michael Beller, principale consulente legale del Public Broadcasting Service, un'azienda pubblica di radiodiffusione che appartiene a un network di 349 stazioni televisive pubbliche, affermava che i figli dei sostenitori del presidente Donald Trump dovrebbero essere sequestrati e collocati in campi di rieducazione. Anche se Biden vincesse, ci schiereremo contro tutti gli elettori repubblicani e la Homeland Security porterà via i loro figli e metteremo i figli dei sostenitori di Trump nei campi di rieducazione. Che vergogna! Vogliono portare via i bambini per i loro sporchi fini, affermando che i bambini che stanno crescendo non conosceranno altro che Trump. I sostenitori di Trump cresceranno una generazione di persone orribili, intolleranti, bambini orribili. Gli americani sono così stupidi. Sai, la maggior parte delle persone è stupida, dice Beller. E' bello vivere in un posto, come dissi, dove le persone sono istruite e sanno cose. Potresti immaginare se vivessi in una di quelle altre città o stati dove tutti sono semplicemente stupidi. La cosa fantastica è che il Covid sta raggiungendo il picco in tutti gli stati rossi, proprio ora. Quindi è fantastico, perché o quelle persone non verranno a votare per Trump o molti sostenitori di Trump si ammaleranno e moriranno. Bell'elemento. Da notare che PBS beneficia dello status di ente di beneficenza che le permette esenzioni dalle imposte federali sul reddito. Riceve anche finanziamenti diretti dal governo federale, con i suoi affiliati locali che ricevono vari fondi dai governi statali e locali. PBS si propone come apartitica e politicamente obiettiva. Ma vi sembra che sia così? O che sia sfacciatamente venduta agli interessi della cupola satanica che domina il mondo? Il rappresentante dello Stato del Texas, Kyle Biederman, un repubblicano, afferma che presenterà la proposta di legge per un referendum elettorale già questa settimana per porre la questione della secessione agli elettori. Sarà Texit. Il governo federale è fuori controllo e non rappresenta i valori dei texani, ha detto Biederman. Il mio ufficio è stato inondato dal sostegno non solo dei texani, ma anche di patrioti affini in tutto il paese. Come ricorderete, a soffiare sulle fiamme della secessione, erano stati i recenti commenti fatti da Allen West, presidente del Partito Repubblicano Statale, dopo che una causa guidata dal Texas, volta a ribaltare i risultati delle elezioni presidenziali del 2020, in quattro stati contesi, è stata respinta dalla Corte Suprema degli Stati Uniti a dicembre. Forse gli stati rispettosi della legge dovrebbero riunirsi insieme e formare un'unione di stati che rispetterà la Costituzione, aveva detto West. Texas Nationalist Movement, il gruppo di Daniel Miller, la più grande organizzazione secessionista dello Stato, che sul suo sito web vanta più di 390.000 sostenitori dichiarati, afferma che la campagna per l'autodeterminazione prevede un governo che inizia e finisce ai confini del Texas e la liberazione dalla dispendiosa burocrazia federale, dai regolamenti e dal debito. Una Repubblica del Texas sarebbe culturalmente distinta, economicamente indipendente e basata sui valori dell'individualismo, dell'imprenditorialità e della famiglia. Richard Kreitner, autore del libro del 2020, Rompila, secessione, divisione e la segreta storia dell'imperfetta Unione americana, afferma I peregrini stessi erano separatisti. L'intero tipo di impulso politico americano è quello di separarsi, di seccedere. Ha osservato che molte persone hanno liquidato le minacce del Sud di una confederazione indipendente come un blef, esattamente come avvenne nel 1861, anno in cui, invece, sappiamo, avvenne la guerra di secessione. Viene liquidato come un fenomeno marginale fino al momento in cui sorprende tutti e diventa mainstream. Penso che sarà la storia di questo decennio, ha concluso Kreitner. Robert Tsai, professore di diritto alla Boston University ed esperto di secessione, afferma La gente non ha la sensazione che il governo federale esprima i propri valori. Questo è vero sia che tu sia di sinistra che di destra. Stai guardando un governo che non può fare nulla, che non può risolvere i problemi delle persone. Miller conclude così Se non ci sentissimo di poter vincere questo referendum, non ci spingeremo avanti così tanto. I texani ben difficilmente accetteranno il Great Reset che Biden vuole imporre, ben difficilmente accetteranno di vedersi privati di ogni bene e della loro libertà. Non sono un popolo che accetta di tutto. Forse facciamo difficoltà a comprendere pienamente il loro sentimento e pensiamo che alla fine si piegheranno. Non è così. Piuttosto si spezzeranno. Ma il Texas non è l'unico stato che pensa alla secessione. Per esempio, nell'Alaska Independence Party alcuni membri vogliono dare anche ai residenti dello Stato l'opportunità di votare per la secessione, essendo in disaccordo su quelle che sono le intenzioni della cupola. Tim Witt, che ha corso lo scorso anno per la Camera dei rappresentanti dello Stato, ha messo in guardia contro i pericoli del lockdown, delle maschere, delle vaccinazioni obbligatorie e del comunismo. Possiamo essere onesti e mettere l'Alaska al primo posto. Siamo uno Stato che ama la libertà, ha detto. Altri ancora che chiedono la secessione sono i movimenti di Gritter Idaho e Move Oregon's Border che immaginano di ridisegnare i confini dello Stato dell'Aidao per comprendere le contee rurali dell'Oregon e idealmente anche parti della California e Washington, condividendo interessi agricoli e tasse più basse. Anche la Lega del Sud non accetta il regime dittatoriale di stampo cinese che la cupola satanica vuole imporre per mezzo di Biden. Chiediamo a tutti gli Stati che hanno votato per Donald Trump di separarsi dagli Stati che hanno legittimamente votato per Joe Biden. Come organi politici non abbiamo nulla in comune ha affermato Michael Hill sul suo sito web. Quando lo Stato centrale agisce intenzionalmente per danneggiare la popolazione economicamente e fisicamente allora sono i governatori locali che possono tutelare i loro concittadini sempre che non siano venduti anch'essi alle diaboliche elite ma in tal caso tra breve condivideranno la loro triste fine una fine definitiva a cui non ci sarà rimedio per i credenti è il gran giorno del giudizio di Dio per chi non crede sono i corsi e ricorsi della storia che porranno fine ai loro loschi piani. prima di concludere volevo ringraziare la Chiani Life di Ferrari Massimo che in collaborazione con la H-Price porta in Italia l'innovativo depuratore basato sugli studi del grande ricercatore giapponese Masaru Emoto ed è il dottor William Reich l'unico depuratore che lavora sulla struttura biofisica dell'acqua cambiando i cristalli di H2O e irrobustendo il nostro sistema immunitario creando un campo energetico che trasmette tramite risonanza una nuova struttura armonica all'acqua la Chiani Life quando ha saputo che Youtube ci ha privato degli introiti pubblicitari e degli abbonati ha deciso di dare anch'essa un contributo a favore della libertà di tutti gli italiani carissimi amici del canale Youtube dentro la notizia un vivo ringraziamento a tutti voi che aiutate con le vostre donazioni la libera informazione a tutela del popolo senza il vostro aiuto di cui vi siamo profondamente grati non potremo crescere e migliorare il nostro servizio informativo chi fosse interessato a sponsorizzare la propria azienda su questo canale può contattarci tramite le mail in descrizione grazie ancora del vostro sostegno e per la condivisione dei video più siamo più forza avremo uniti si vince un abbraccio dal vostro Roby